Sì, non c'è dubbio che ci debba essere una grande preoccupazione, anche perché il milione di persone ha ricevuto solo la prima dose e c'è il rischio che almeno si debba posticipare la seconda dose, perché la quantità messa in riserva era soltanto del 30%. Comunque speriamo che le cose migliorino, perché una diminuzione di 136 mila dosi circa alla settimana, perché non sappiamo poi se questo nelle prossime settimane andrà meglio, certamente ritarda molto. Qui noi in fondo paghiamo molti degli errori che abbiamo fatto in passato, quando non abbiamo sorvegliato la situazione, abbiamo puntato solo su un tipo di vaccino, che anche lui è in grande ritardo e poi ha dei problemi non indifferenti. Dovevamo anche noi pensare di lanciare l'idea di fare in Italia una sede di produzione, come per esempio sta facendo adesso la Germania attraverso la sede di Marburgo. Quindi ci sono molte cose che sono preoccupanti, perché il milione è ancora una vaccinazione parziale, abbiamo bisogno adesso di un milione di seconde dosi. Allora, tantissimi punti, cerco di andare veloce. Seconda dose, lo chiedo anche a lei, se ne è parlato tanto in questi giorni. C'è chi dice che ritardarla non ha importanza, si può ritardare, c'è chi dice che si può usare anche, avete usato Pfizer, usiamo Moderna. Ma tutte queste cose, se c'è un protocollo che dice esattamente, ci dice il protocollo che è stato approvato dall'EMA, eccetera, 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 di farlo dopo 21 giorni, è davvero così semplice ovviare al problema della seconda dose. E poi, parlo di EMA non a caso, non è solo un problema italiano, perché tutto questo ci porti fuori dal famoso tunnel. È un problema europeo, cioè è l'Europa che deve andare insieme in questa strada. Certamente ha ragione, però l'Europa può andare insieme soltanto se riceve la quantità di dosi sufficienti per accelerare tutto il processo. L'AIFA ha stabilito che si deve seguire l'indicazione delle tre settimane per la seconda dose. Quindi questo è quello che, se ci fosse molto più vaccino a disposizione, forse si potrebbe pensare anche ad altre soluzioni. Ma comunque, insomma, oggi è questo quello che bisogna fare e quindi il problema, di nuovo lo ripeto, è molto preoccupante e va studiato nei suoi dettagli anche a livello europeo per essere sicuri di non dover fare questa vaccinazione, quella che porta poi a un'immunità diffusa nel periodo di due anni. Insomma, perché queste sono le prospettive con le cifre che abbiamo a disposizione oggi. Non dimentichiamo che ci possono essere anche altre soluzioni, occorrendo per esempio all'India, dove c'è un centro di produzione che da quello che viene riportato, almeno nella stampa, è in grado di fare e sta facendo miliardi di dosi.